Con la mano nella mano, dolce fa niente, con un film americano, andare in cartoline agli amici e non tornare più, non tornare più. Ma guarda che silenzio, abbiamo detto festeggiamo il diciottesimo posto della Hit Parade, nessuno, non gli importa niente a nessuno, grazie a voi solamente che mi ci avete mandato. Buongiorno ragazzi, buongiorno!